Locauto 2, la concessionaria Peugeot più grande d'Italia, è aperta e pronta ad accogliervi. Nove showroom nelle province di Torino, Vercelli e Novara, dove verrete guidati da professionisti nella scoperta delle migliori promozioni e soluzioni di acquisto. Quando si pensa al marchio Peugeot, viene subito in mente Locauto 2, la concessionaria che dal 1963 offre i suoi servizi a generazioni di automobilisti. Per tutto il mese di dicembre le offerte Locauto 2 sono valide su tutta la gamma di vetture e veicoli commerciali Peugeot, fino a 6.700 euro di sconto su Peugeot 208. Fino a 7.300 euro di sconto su Peugeot 208. Fino a 8.300 euro di sconto su Peugeot 308. Risparmio dal 35% al 50% sulla gamma dei veicoli commerciali Peugeot. Alla Locauto 2, ampia scelta di veicoli d'occasioni, aziendali e chilometri zero di ogni modello, marca e prezzo. Tutte le occasioni targate Locauto 2 Select hanno superato oltre 100 controlli, gli interni sono igienizzati e vengono consegnati con almeno 12 mesi di garanzia. Per chi acquista una vettura d'occasione nel mese di dicembre avrà compreso nel prezzo un treno aggiuntivo di pneumatici invernali e potrà quindi viaggiare in totale sicurezza per tutto l'anno. Alla Locauto 2, tutte le vetture sono acquistabili comodamente dal vostro divano di casa. Potete infatti fare i vostri acquisti direttamente online, vedere la vostra nuova auto in videochiamata, ricevere il preventivo e i documenti per l'acquisto. La vettura? Non vi scomodate, ve la portiamo noi! Sappiamo tutti come in questo particolare momento sia importante viaggiare sicuri con la propria vettura. Per farlo bisogna sempre mantenerla efficiente. Per questo tutte le officine Locauto 2 sono aperte per garantire i servizi di manutenzione, assistenza, riparazione e cambio gomme. Come il nuovo e moderno centro assistenza aperto nel cuore di Torino in via Forlanini, angolo Corso Turati, nato per essere ancora più vicino a chi abita in città. Locauto 2 è la tua concessionaria di fiducia perché da sempre si prende cura di te e della tua auto.